Ciao a tutti, sono Martina e oggi sono qui per parlare di un problema che ormai viene sottovalutato, ovvero la sicurezza del ciclista. Ogni giorno molti ragazzi e ragazze escono ad allenarsi con la paura di rimanere vittime della strada e questo avviene perché non ci sono posti sicuri di potersi allenare. Per risolvere questo problema, a parer mio, bisognerebbe istituire delle vere e proprie piste ciclabili e non come quelle che ci sono ora, che sono molto corte e al loro interno ci sono dei paletti che ti obbligano a rallentare. Un'altra soluzione è quella di rispettare il codice della strada sia da parte del ciclista sia da parte del guidatore. Invece per quanto riguarda la mia specialità, ovvero la mountain bike, sarebbe carino istituire dei veri e propri circuiti oppure ripulire quelli già esistenti dalle sterpaglie e dalle erbacce per potersi allenare in tutta sicurezza.